Buongiorno e bentrovati al salotto acquatico di Swim Biz, volevate le belle ragazze bionde? Boh, ve le ho portate. Buongiorno. Come stai? Bene. Ben trovata? Grazie anche a te. Si è ritornati a nuotare? Un bel collegiale questo. Eh sì, è un collegiale di ripresa, chiamato di ripresa, ma è già abbastanza pesante. Insomma, il fondo è sempre nei tuoi pensieri? Eh, per forza, ancora per qualche anno spero. Ah addirittura? Insomma l'età non conta, via. No, vabbè, per il fondo posso arrivare anche a 37-38 anni. Addirittura quindi abbiamo ancora... Beh, la Maurer nel 2009 quando ha vinto i mondiali di Roma la 25 ce n'era la 37, quindi... C'è speranza anche per la vita. Magari. I risultati? Facciamo un po' il punto della situazione. Tu sei stata grandissima in mondiale di Roma, adesso ti aspettiamo perché ci siamo un po' persi. Eh sì. Che è successo? Eh, ho avuto un paio d'anni un po' difficili. Diciamo il primo anno anche a livello familiare un po' di problemi, quindi io accuso molto quello che succede fuori dall'acqua. Tu sei molto sensibile, mi parlo. Eh, è abbastanza. È un pochettino, eh? Prima c'era qualche finanzato che ti ha fatto penare. Sì. Eh, ma adesso... Ho smesso. Come hai smesso? Basta finanzare? Per ora sì. Ah, veramente? Ammazzano quella ragazza così che mi dichiarano una cosa del genere? Eh. Senti, tu sei molto attiva su Facebook. Eh, leggevo alcune cosucce. Quando sono nervoso ho messo in ordine. Era per l'inizio del collegiale. E tutto il giorno mi mette un po' di tensione. Adesso non mi mette invece la tua stanza tutta la tua stanza. È il caos. Vabbè, ma c'è da... Non c'è tempo. E poi ha scritto ancora, ma da dove mi è venuto in mente di nuotere la mattina? Di domenica. Incredibile. Quanti chilometri stai facendo adesso? E ora a collegiale stiamo facendo 18-19. In basca lunga. Però più o meno siamo sempre sui venti. Vabbè, un bel mazzo come si dice. Abbastanza. Senti, il prossimo appuntamento importante che ti... A parte l'Olimpiade che penso che sia. No. No? No? Eh, no. L'Olimpiade per noi già sono stati assegnati i posti. E quindi no. No. Purtroppo. E noi abbiamo gli europei di specialità anche quest'anno. A settembre penso. Ancora non è stato definito né la data né il luogo. Ritornerà la vitale dei venti migliori? Eh, ci sto provando. Noi siamo prendi tifosi, no? Ci stiamo dando questa carica ulteriore. Ci sto provando. Diciamo che due anni appunto sono stati difficili. A settembre ho dovuto prendere una decisione. Ho detto smetto e cambiamo vita oppure se ci provo ancora un pochino devo farlo con piacere, devo ritrovare la voglia di nuotare, il divertimento proprio nel farlo. E quindi ora sembra che va meglio. Allora qui di fronte del cammino di Swim Biz possiamo dire la vitale c'è, combatte per noi e per i prossimi dieci anni, insomma, la vedremo sempre più forte. Speriamo. Grazie Federica, bocca al lupo. Ciao, ciao, ciao.